Buona cornice di pubblico e tanti atleti al campionato provinciale AICS organizzato dalla Karate Judo Club di Sciacca per le categorie fanciulli, ragazzi, esordienti, cadetti, juniores e seniors che nel settore arti marziali hanno gareggiato sia per la specialità kata sia per la specialità kumite, oltre che nel gioco tecnico del palloncino. La Karate Judo Club di Sciacca ha organizzato un'iniziativa di rilievo coordinata dal maestro Pippo Piazza, dal tecnico Michele Catanzaro e da tutto lo staff dello storico sudalizio sportivo. La manifestazione si è tenuta all'interno del pallone tenda Nino Roccazzella e segna una importante ripartenza dopo gli anni della pandemia e dopo la lunga chiusura della struttura sita nel quartiere Perriera. Conquistano il titolo di campione provinciale nelle loro categorie per la società Alta Irdimenfi, Restivo, Monaco e Tarolli. Per la società Ceskus Raffadali, Lombardo, Frenda, Cuffaro, Lattuca, Lachè e Iadaresta. E per la società Karate Judo Club di Sciacca, Russo, Bono, Calia, Collana, Cervelli, Falcone, Girasole, Avola e Nicosia. Per la classifica di società, prima la Karate Judo Club di Sciacca, secondo Ceskus Raffadali e terzo Alta Irdimenfi. All'iniziativa è stata presente anche all'amministrazione comunale rappresentata dal vice sindaco Valeria Gulotta. Ancora arti maziali, ottimi risultati per la SD Sakura di Sciacca alla prima fase del campionato siciliano Feder Combat che si è svolto al Pala Catania. Il sodalizio, diretto dai tecnici Pippo e Andrea Giuffrida, nella specialità Point Fighting, ha piazzato Eva Porrello sul gradino più alto del podio, nella categoria Young Cadetti fino a 45 kg. Ha sfiorato il successo e ottenuto invece il secondo posto Emanuele Giuffrida, nella categoria Old Cadet fino a 63 kg, mentre si sono classificati terzi Antonio Inzerillo e Gabriele Mangiapanello, nella categoria Juniors, nelle rispettive categorie di peso. Buona prova anche per Ignazio Indelicato, Leonardo Fazio e Alessandro Infantino, che non sono riusciti ad arrivare al podio, ma che hanno gareggiato con impegno e determinazione. La Sakura di Sciacca adesso sarà nuovamente sul tatami federale ancora con il settore del kickboxing il prossimo 2 febbraio a Palermo per la seconda e ultima fase del campionato siciliano Feder Combat di kickboxing.